Adesso ci spostiamo a Terra Nuova Bracciolini, nuove piante d'essenze nei parchi del comune per migliorare la sicurezza pubblica. Annalisa Zampini. Il marrone del verde pubblico a Terra Nuova Bracciolini, in particolare la salute degli alberi che sta a cuore agli amministratori, in particolare il vice sindaco Mauro Di Ponte. Stiamo lavorando nel Viale Piave ma anche in alcune piazze del centro. Sì, abbiamo anche quest'anno fatto delle verifiche sulle alberature, quelle più importanti, più a rischio perché si trovano nelle zone più sensibili, quale la viabilità oppure parchi dove appunto ci sono e sono frequentati da bambini e da ragazzi. Quindi andremo e stiamo già procedendo ad abbattere, a togliere alcuni pini, soprattutto in Viale Piave e delle giardine adiacenti all'ex asilo nido e in maniera importante anche interverremo in piazza netta italiana dove sono presenti appunto un parco di lecci storici che a malincuore dobbiamo parte togliere. Sono piante ormai, dalla verifica che abbiamo fatto, sono ormai secche e vuote, quindi sono a rischio proprio caduta e quindi proprio in previsione anche del maltempo e magari della neve, di qualche neviata importante, come è successo qualche anno fa, appunto abbiamo deciso di intervenire celermente. Ovviamente a seguito di questi interventi di potatura, comunque e soprattutto quelli di abbattimento, procederemo con la ripiantumazione di nuove alberature, in sostituzione dei lecci ovviamente rimetteremo nuovi lecci, però in sostituzione dei pini andremo a cambiare alberatura, metteremo piante meno periolose, invadenti, soprattutto dove c'è la viabilità comunale e andremo a sostituirli con aceri o tigli. Già li stiamo facendo nei giardini di Pernina, nelle sede del circolo della Cicogna. Niente, è un impegno che l'amministrazione ha un programma ogni anno di fare, di verifiare appunto la stabilità delle proprie piante all'interno dei parchi e dei giardini e proseguiamo su questo percorso.